eccoci eccoci qua indegnoni allora allora di che parliamo di superman origini segrete video un po particolare perché non so se vuoi parlare di superman forse qualcosina sì ma perché allora io leggo comics non moltissimo leggo batman sono amante della dc comics però fondamentalmente batman ho cominciato a prendere qualcosina wonder woman e superman più che altro dove ci sono autori bara disegnatori ma più autori che che mi interessano e questo superman origini segrete ha il duo gilf jones gary frank che a me interessa molto perché l'ho apprezzato e amato con batman terra 1 questa è la collana supereroi e leggere di sì un buonissimo modo per recuperare delle storie che vi interessano che in cartonato magari con qualche editoriale in più ma non lo so eccetera costerebbero 20 22 qua con 7 euro ve la cavate si possono recuperare anche su prima edicola e tanta tanta roba sinceramente devo ancora recuperare un po di costo superman allora qui viene gary frank lo ci fa il nostro superman come il superman classico del film credo il primo film adesso non mi ricordo come si chiama quello che poi rimasto assi a rotelle devo dire che che l'ho trovata una bellissima trovata ci sono delle secondo me ecco qua ho presa per culo ho presa subito pagine veramente iconiche secondo me bellissime e è una riscrittura delle origini l'ennesima riscrittura delle origini perché come sapete con gli anni 1 nuove origini eccetera eccetera i le origini dei nostri supereroi sono state riscritte non so quante volte questa puntoria e non so se fa proprio parte della randy che off jones su superman è una cosa fine ranno un po a parte ero curioso di leggerla devo dire che non mi ha deluso non mi ha deluso che jones non mi ha deluso gary frank perché i disegni sono veramente veramente bellissimi mi piace proprio che i colori anche su questa carta sinceramente secondo me rendono anche bene e e la storia è figa e devo dire che non è figa quando superman combatte verso la fine che già superman che c'è questo nemico classico nemico con la kriptonite l'ex tutor eccetera eccetera che io non so un grandissimo fan di questi insomma sempre queste cose un po ripetitive che c'è secondo me batman è un supereroe più variegato perché c'ha più nemici e c'ha più modi che combatte lui anche un po un detective alla fine superman c'è combattere ok possono cambiare i nemici ma però strutturalmente sempre gli stessi e poi le dinamiche sempre uguale poi lui sta per vincere di lavorare a kriptonite sta per perdere ma fine vince e quello non è che a me mi mi garba molto però devo dire che questo qui non mi ha disturbato come combattimento poi a me dei superman piacciono qualche storia quella magari quando è un po più livello spaziale c'è tipo più alieni che combatte però devo dire che tutto l'inizio da quando è ragazzo ma soprattutto da quando lui arriva al dei planet diventa giornalista c'è lois lane e tutto quanto è veramente veramente figo lì e anche quando è ragazzo e anche quando è ragazzo a smallville non è male non è male però la parte come amato che ho apprezzato di più e quando lui insomma arriva al daily planet un giornale quasi un po e rovina c'è lois lane direttore il fotografo mi ricordo come si chiama ragazzo che fa le foto e l'ho trovato veramente veramente figo poi ragazzi secondo me ci sono comunque degli omaggi al superman vecchio che 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 non vi dico che non vi dico e quindi quindi voi direte ma perché ci parli di perché ci parli di perché ci parli di sto superman perché ci parli dove leggi comics dopo sì è vero però io vorrei cercare quando vi porto qualcosa dei comics che magari non è al solito batman vorrei portarvi qualche cosa non da esperto non da ma da uno che si è approcciato da poco e che uno che leggeva tutt'altro adesso legge anche questo e vorrei che voi prendesse queste cose che vi dico come proprio un che ne so tu hai letto sempre bonelli però questo qua te lo puoi leggere io te lo consiglio perché figo tu hai letto solo fumetto francese se c'è voglia di legge qualcosa di diverso di allargare i tuoi orizzonti questo qua te lo consiglio perché poi legge perché si capisce tutto i personaggi sono comunque tutti capibili non c'è continui perché appunto parliamo delle origini qualcosa è scritto nell'editoriale quindi aveva un po di contestualizzazione e quindi è facile alla lettura e abbordabile da tutti i dialoghi non sono pesanti e quindi questo è un altro fumetto che io vi porto che vorrei cercare di avvicinare a queste opere anche chi non si è mai avvicinato quindi se c'è qualcuno magari è lì che dice ma io ho letto sempre solo bonelli però sinceramente se c'è qualche storia di supereroi io me la leggerei allora dico ecco allora leggete questa ok quindi non voglio fare una enciclopedia dei supereroi di sì perché non so proprio nel canale questo è un canale come sempre di condivisione dei fumetti e secondo me questo qui è un fumetto che merita chiaramente chi legge i comics da tanti anni sarà lì e dirà eccolo è arrivato scoperto l'acqua calda infatti questo video non è per voi insomma è per tutti gli altri che non sanno magari come approcciarsi o che cosa leggere la vi dico visto e considerato anche che magari potete recuperare sta storia forse anche sull'usato ma su prima edicola nuova a 7 euro invece che a 20 22 non so quanto costa io dico cavolo prendete anche spunto dal prezzo che è molto basso per leggere una bella storia perché scritte come al solito ma bella bella cicciottella saranno 200 pagine potrebbe essere e quindi io c'è sulle 200 pagine una bella storia scritta ben disegnata bene tutto quanto a 7 euro per provare secondo me ci sta ci sta e ve la consiglio veramente tanto detto questo come al solito scrivete nei commenti commentate se ho detto qualche cazzata su superman se l'avete letto cosa ne pensate cosa non ne pensate e niente come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti